un'onda semplice di auto ok hai già preso il primo recinto perfetto ho il supporto più che varia allora per far vedere meglio le cose a voi votiamo il giorno così avrete modo di vedere senza night vision le nostre prestazioni qualcuno voti la ok ok allora adesso riprendiamo il nostro equiparciamento e poiché non è possibile fare questa perchè sono 35 soldati assetati di sangue Giorgio ci sta entrando dentro vai largo e ci sta per entrare dentro quindi stiamo per esplodere qui c'è un campo di baliti no Giorgio ci sta andando dritto dentro vai al silenzio guardate lì bello l'orca armata che è sopra che non vede l'ora di farci saltare eh si si ah ma proprio stiamo passando accanto proprio così no no Giorgio non si può perfetto 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 ma così ci fai anche peggio perfetto 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 ok ok d'accordo i botti di capodanno abbiamo fatto ora sapete che quando vi dicono quando vi dicono lontano vuol dire lontano adesso lo sapete se qualcuno vuole ce la può clippare per i posteri è stata una cosa interessante bene ora sapete che sparano dalle missioni quindi ok chiaramente questo è un mezzo che l'armatura ce l'ha quindi i colpi un po' di striscio non lo stendono subito è abbastanza stoico come il mezzo oddio no è piano 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 ok bene bene siamo arrivati ora lascerò la terra